Siamo di nuovo in diretta dal nostro studio di Udine pronti per la rassegna stampa sportiva rassegna stampa che iniziamo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport andiamo a vedere assieme innanzitutto il titolo di apertura ovviamente c'è il calcio mercato in primo piano in questi giorni e il titolo della Gazzetta dello Sport ci porta in casa Juve, De Sciglio, Scesni, Maxi, Scommesse Juve presi gli eredi di Dani Alves e Buffon il terzino pagato 12 milioni ritrova Allegri che l'aveva scoperto al Milan e adesso può rilanciarlo per il portiere 12 milioni più 3 di bonus all'Arsenal questo il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport sulla quale torneremo poi nel corso della nostra rassegna stampa anche per vedere le altre notizie di mercato ma non solo che ci arrivano dai principali quotidiani sportivi nazionali ma adesso facciamo un salto subito sui quotidiani locali e andiamo a vedere le ultime che ci arrivano da casa Udinese siamo sul Messaggero Veneto e vediamo il titolo di apertura del fascicolo sportivo di oggi Udinese Pavoletti, pausa di riflessione titola il Messaggero adesso tra la punta e i bianconeri spunta all'ostacolo dei dubbi sulle condizioni fisiche il sogno rimane sempre Babacar sull'attaccante della Fiorentina ha messo gli occhi anche il Torino più lontano da Zapata dopo che Cairo ha soffiato Berenguer a De Laurenti andiamo a leggere anche le prime righe dell'articolo di Massimo Meroi la preparazione è cominciata più di una settimana fa la squadra è in ritiro in Austria da un paio di giorni e la sensazione è che quando sarà finito Gigi Del Neri non avrà ancora a disposizione il nuovo centravanti tante chiacchiere scrive il Messaggero ma pochi fatti almeno per il momento su questo fronte in casa Udinese considerati i parametri bianconeri tetto in gaggi e prezzo del cartellino tutte le trattative risultano complicate lo è anche quella per Pavoletti che guadagna 1,7 milioni e che il Napoli a gennaio ha pagato al Genua 18 milioni e poi ancora sempre per quanto riguarda le mosse bianconere nel taglio alto per quanto riguarda Carnesis scusate ormai una questione di giorni se non di ore il trasferimento del portiere greco al Napoli Meret quella che si è appena aperta potrebbe essere la settimana buona anche per il trasferimento di Alex Meret alla SPAL con la formula del prestito Widmer pare essere nuovamente tornato un obiettivo del Napoli scrive il Messaggero intanto è arrivata l'ufficializzazione di un'altra amichevole il 9 agosto test in Spagna con il Celta Vigo mercoledì 9 agosto alle 20.30 l'ultimo test che l'Udinese sosterrà prima dell'esordio ufficiale in stagione nel terzo turno di Coppa Italia che vedrà i bianconeri entrare in scena il 12 o il 13 agosto a stabilire data avversario preciso sarà il sorteggio della Team Cup non ancora fissato ma atteso entro questa settimana tra poco dovremo collegarci anche con il ritiro di St. Vite per vedere quali sono le ultime che ci arrivano appunto proprio da casa Udinese i bianconeri hanno proseguito la preparazione con la doppia seduta Samira ha proseguito nel lavoro personalizzato in programma per quanto concerne la parte atletica senza mancare invece alle sedute tattiche quelle in cui si era già visto al Bruseschi la scorsa settimana anche Baracca ha svolto un differenziato in quanto deve ancora smaltire i postumi di un risentimento occorsogli nell'ultima convocazione con la nazionale ieri è salito in ritiro anche Bubnic che sarà valutato da Del Neri mentre a Udine sono rimasti a lavorare Meret costretto al differenziato dalla pubalgia con E in sua e già di tutti i rientrati dai prestiti che però non rientrano nel progetto tecnico al Bruseschi è arrivato anche il venezuelano Valasquez che si allenerà a Udine fino a quando sarà a conoscenza delle decisioni di Gino Pozzo come noto il difensore non può più giocare in Premier con il Watford e l'Udinese aspetta ulteriori sviluppi di mercato prima di riempire l'ultimo slot per l'extracomunitario che è rimasto questo per quanto riguarda le ultime notizie da casa Udinese dicevamo prima che oggi sul Messaggero Veneto l'articolo, anzi scusate l'approfondimento dedicato all'economia punta l'attenzione questa settimana proprio sul mondo sportivo andiamo a vedere assieme alcuni articoli che ci raccontano e ci descrivono l'economia legata al mondo dello sport nella nostra regione vediamo la pagina di apertura di Nord-Est Economia che titola così partita vincente attrezzi, impianti, abbigliamento e calzature la manifattura e l'innovazione legate allo sport hanno ripreso a correre anche all'estero questa è la prima pagina del fascicolo poi ci sono tanti articoli nell'interno che ci raccontano le tante realtà produttive legate al mondo dello sport e c'è un articolo dedicato anche al mondo del calcio all'Udinese in particolare ecco il titolo dell'articolo di Pietro Oleotto Pozzo, gli unici a fare soldi con il calcio come restare in Serie A per 23 campionati di fila e costruirsi uno stadio di proprietà nonostante abbia la bacheca pressoché vuota solo una Coppa Intertoto nel 2000 al crucio dei tifosi friulani l'Udinese è un esempio a livello di gestione e di produzione di ricchezza nel calcio quasi una mosca bianca nel pallone di casa nostra ormai in mani straniere strozzate dai debiti non finiscono solo gloriose e blasonate società come Inter, Milan e Roma che hanno avuto bisogno di capitali cinesi o americani per restare ad alto livello ma anche club di medio cabotaggio come il Genua sta per passare di mano dall'ex re dei giochi e in grigo preziosi a una cordata che arriva dal produttivo oriente l'Udinese no e poi appunto l'articolo prosegue raccontando l'avventura il lavoro dell'Udinese calcio da 31 anni nelle mani della famiglia Pozzo e per quanto riguarda appunto sempre il mondo del pallone vediamo anche quest'altro articolo margini giù costi su e il pallone scoppia uno studio realizzato dalla FIGC evidenzia il disequilibrio di fondi che mina le società Udinese e Cittadella casi virtuosi fra una pletora di club in perenne sofferenza e dopo aver visto questi numeri e questi articoli ci fermiamo un attimo apriamo una piccola parentesi dedicata come sempre al traffico cittadino allora colleghiamoci subito con la centrale operativa della Polizia Municipale per vedere com'è la situazione in città in questo momento buongiorno, con chi siamo al telefono? buongiorno, vice commissario Florio buongiorno, vice commissario ci racconti tutto, com'è la situazione? la situazione del traffico è scorrevole e regolare da segnalare alcune probabili criticità che potranno verificarsi nel corso della giornata in particolare in Viale Venezia oggi ci saranno lavori di falcio nella juola centrale pertanto potranno esserci dei rallentamenti quindi si raccomanda attenzione e prudenza in via Cividale all'altezza dell'ex caserma Stacamela la corsia è in uscita interessata da lavori anche lì potranno esserci dei rallentamenti a causa del restringimento della carreggiata che verrà attuato in Viale 23 marzo nel tratto compreso tra Via Manzini e Piazzale d'Annunzio c'è il divieto di transito per i lavori che ormai durano da un po' e poi si segnala la chiusura di Vicolo Sottomonte e di Via del Sale e Viale Leonardo da Vinci all'altezza di Via Urbanis e fino all'Istituto Malignani ci sarà un senso unico alternato sempre per lavori si preannuncia che da domani verranno chiuse alla circolazione anche Via Urbanis Via Dormish e Via Vecellio sempre per lavori vice commissario? si si sempre per lavori adesso sono interessate parecchie strade della città man mano dai lavori per il teleriscaldamento perfetto grazie allora per tutte queste informazioni sempre molto utili sempre molto preziose per chi si deve muovere in città in questi giorni in queste settimane in cui c'è meno traffico anche perché le scuole sono chiuse in molti sono in vacanza aprono tanti cantieri anche in città che appunto comportano delle chiusure di alcune strade oppure delle modifiche alla viabilità ordinaria grazie ancora alla Polizia Municipale noi ritorniamo sui quotidiani di oggi eravamo sul fascicolo del Messaggero Veneto Nord-Est Economia parlavamo di calcio parlavamo anche di stadi c'è un focus sugli stadi realizzati da Cimolai fatti su misura per super eventi una realtà importante della nostra regione chiamata per le grandi sfide Artene ha realizzato lo stadio in occasione delle Olimpiadi stessa cosa a Johannesburg in occasione dei mondiali di calcio e ora è impegnata a Parigi sui terreni del Roland Garros chiudiamo adesso queste pagine dedicate all'economia sportiva per tornare a parlare di sport giocato o quasi ritorniamo sul Messaggero Veneto e proseguiamo la nostra carrellata sulle pagine sportive prima abbiamo visto le ultime novità per quanto riguarda il ritiro e la preparazione dei bianconeri c'è un ex calciatore dell'Udinese che si sta preparando si sta allenando della nostra regione ma con un'altra maglia è Felipe che in un'intervista ha detto Udinese nel cuore ma ora penso alla SPAL il difensore si sta allenando con la sua nuova squadra nel ritiro di Tarvisio voglio fare bene con questi colori ripetendo le stagioni in bianconero ha detto Felipe che vediamo appunto in questa intervista continuando a parlare di calcio poi andremo a parlare anche di altri sport ma continuando a parlare di calcio andiamo a vedere le ultime per quanto riguarda il Pordenone che ha iniziato il ritiro ad Arta Terme i Ramarri faticano in quota pensando ai derby Triveneti ieri primi allenamenti ad Arta Terme atletici e di possesso oggi doppia seduta campionato dal 27 agosto Triestina Padova Mestre e Vicenza tra le avversarie e dal 30 luglio c'è la Team Cup venerdì ci sarà il sorteggio il campionato avrà inizio il 27 agosto questa è l'unica cosa certa della Serie C 2017 2018 l'organico della categoria è ancora da stabilire considerato che ci sono 5 posti liberi e il presidente Gravina vuole mantenere il gruppo a 60 club circolano tuttavia le prime ipotesi relative alle composizioni dei gironi con il Pordenone inserito nel gruppo B e all'orizzonte i derby Triveneti con Triestina Padova Mestre e Vicenza questo il possibile quadro per quanto riguarda il mercato Pordenonese Cisotti e Tortori ancora in stand by ci dice il titolo di questo articolo che fa il punto sulle trattative rimanendo in area Pordenonese ma cambiando sport andiamo a vedere anche questo articolo che ci racconta del match di Pugilato che si è giocato nei giorni scorsi a Sequals alla 32esima edizione del Carnera Box Turchi Redis e Quals Rosi pochi come primo show durante e dopo l'assegnazione del titolo intercontinentale WBC Silver sul ring l'ex campione del mondo ricorda il proprio exploit negli Stati Uniti e vediamo anche alcune immagini della sfida tra Crenze e Turchi e poi la consegna del guantone di Carnera a Turchi che appunto ha vinto la sfida ecco alcune immagini chiudiamo anche questa pagina adesso e prima di proseguire la nostra rassegna stampa andando a dare un'occhiata anche alle notizie che ci arrivano dagli altri sport ci colleghiamo subito con Sant Fight dove vedo pronto Maurizio Ferrari c'è il sole Maurizio buongiorno ben trovato raccontaci un po' che clima c'è che aria si respira dal ritiro dell'Udinese a te la linea buongiorno Angela buongiorno anche da Sant Fight dove c'è il sole ma diciamo che all'ombra tira un'aria abbastanza freschina uno dei motivi per cui siamo da queste parti in Carinzia tira una buona aria nel ritiro dell'Udinese lo abbiamo visto dalla grande giornata di allenamento di ieri perché ieri la squadra ha sudato con due doppie sedute veramente intensissime chiuse tra l'altro con una fase atletica molto importante i giocatori che hanno fatto hanno ripetuto a lungo esercizi di corsa ben dieci i turni di corsa che hanno visto chiudere la seduta di ieri che già era stata intensa anche sotto il profilo tecnico-tattico ragazzi molto stanchi che però la sera si sono anche divertiti con un rituale che abbiamo già raccontato anche ieri durante la puntata di Udinese Tonight vale a dire tutti i nuovi hanno dovuto alzarsi sulla sedia e cantare una canzone a loro piacimento un modo anche di fare gruppo tanto divertimento tanti sorrisi tira davvero una bella aria lo abbiamo dimostrato anche ieri sera con i nostri ospiti abbiamo avuto al nostro microfono Jacopo Biancto il nuovo acquisto Giuseppe Pezzella e anche il direttore sportivo Manuel Gerolin saremo ovviamente live anche nella giornata di oggi con la nostra finestra sull'allenamento alle 17 in diretta spazio a quello che sarà il lavoro pomeridiano della truppa di Mister Del Neri anche quest'oggi doppia seduta si inizierà a lavorare dalla mattina alle 9.30 circa un paio d'ore di allenamento poi il pranzo nel pomeriggio di nuovo in campo alle 17 e poi domani soprattutto un nuovo test quello Agmund circa un'ora da qui per raggiungere la città dove affronteremo la Larigèdà formazione della Labia Saudita questo è un po' il menù che abbiamo da una Sunfight che si sta svegliando proprio in questi minuti Angela se non hai altre curiosità da chiedermi altre cose da raccontare da qui in Austria vi mandiamo ovviamente un saluto è un invito a seguirci sempre in diretta grazie grazie Maurizio per questo collegamento ci rivediamo questo pomeriggio per il nostro consueto speciale pomeridiano dedicato all'allenamento io mi ricollego un po' alle tue parole andando sulle pagine del Gazzettino che oggi scrive così per quanto riguarda il ritiro clima da caserma si suda dieta ferrea ecco le giornate tipo dei bianconeri a Sanctfait non c'è nemmeno il tempo per una fetta di Sacher nel centro di Sanctfait il comune di circa 12 mila abitanti nel quale l'Udinese da domenica ha iniziato a faticare sul serio e non c'è tempo sia perché la Sacher è assolutamente bandita dalla dieta sia perché i bianconeri in questi giorni sono letteralmente alla frusta scrive il Gazzettino giornate senza sosta alimentazione super controllata e ritmi sonnoveglia da caserma così si vive in ritiro senza distrazioni e con pochissimo spazio per lo svago andiamo a vedere anche l'altro articolo che apre le pagine sportive dedicate all'Udinese sempre sul Gazzettino l'imperativo sfoltire la rosa la cura dimagrante finora non ha portato gli effetti sperati del neri vuole 25-26 elementi nelle trattative la priorità è il difensore centrale poi sempre per quanto riguarda il mercato da Carnezi Samatos ecco chi è in bilico il caso Meret per rinnovare vuole mezzo milione scrive il Gazzettino e poi ancora leggiamo il titolo dell'articolo dedicato al mercato Velázquez c'è ora e sfida a due Taider Berami chiudiamo le pagine del Gazzettino e ritorniamo sul Messaggero Veneto anche per dare un'occhiata alle notizie che ci arrivano dagli altri sport andiamo a vedere le ultime dal basket ecco il titolo che ci dice le date della prossima stagione di A2 il primo ottobre il debutto della GSA mancano manca un mese esatto alla ripresa degli allenamenti della più GSA ci sono intanto le date del campionato della fase regolare che inizierà domenica primo ottobre e si concluderà il 7 gennaio 2018 18 e ancora sempre per quanto riguarda le pagine sportive del Messaggero Veneto andiamo a vedere anche qualche altra notizia che ci arriva sempre dal mondo del basket basket femminile in questo caso perché stanno per iniziare tra Udine e Cividale i mondiali under 19 di basket femminile c'è anche un atleta regionale in nazionale il sogno di Elisa e delle azzurre vincere una medaglia la Pontoni della Delser nel team che sfiderà Stati Uniti e Spagna e per una settimana il Friuli capitale della pallacanestro l'Italia è pronta a stupire da sabato inizia infatti il mondiale di basket femminile under 19 in programma a metà fra Udine e Cividale fino al 30 luglio e che vedrà le azzurre contendersi inizialmente il miglior posto di qualificazione nel girone A assieme a Cina Stati Uniti e Mali inoltre a portare in alto la bandiera del Friuli ci penserà Elisa Pontoni gioiellino azzurro della Delser Udine ed ecco ancora tutta la pagina dove troviamo anche altre notizie che ci arrivano dagli altri sport ma adesso chiudiamo questa pagina chiudiamo il Messaggero Veneto per ritornare sui per andare anzi un attimo sul piccolo il piccolo di Trieste dove ci sono alcune notizie sportive interessanti a cominciare per quanto riguarda sempre il basket dall'addio al parquet di Pecile ecco la doppia pagina che ci dice appunto della decisione del cestista di lasciare le gare ufficiali Pecile il ritiro dal parquet ma il futuro è Alma vent'anni di canestri successi emozioni e voglia di divertire era arrivata l'ora di scegliere ha detto adesso giocherò al campetto e poi sempre sulle pagine del piccolo voltando pagina torniamo al calcio perché troviamo un'intervista al portiere di proprietà dell'Udinese Perisan in prestito alla Triestina Perisan vuole crescere insieme alla Triestina si presenta il nuovo portiere in prestito dall'Udinese avevo proposte interessanti in B ma so che qui potrò giocare ha detto il giovane portiere poi vediamo appunto tutta l'intervista sulle pagine del piccolo e vediamo appunto il passaggio che riguarda l'Udinese e i portieri qual è il segreto di questa scuola di grande successo certamente gli allenatori dice il giovane portiere di proprietà appunto dell'Udinese chiudiamo anche questa pagina e ritorniamo velocemente sulle prime dei quotidiani sportivi nazionali ritorniamo sulla gazzetta abbiamo visto prima le trattative portate a termine da parte della Juventus che è chiuso per De Sciglio e Cesni ma andiamo a vedere anche le altre voci di mercato per quanto riguarda l'Inter c'è che ità accordo in vista con il Laziale sul piatto ci sono 20 milioni il senegalese ieri era a Milano Marzial potrebbe arrivare in cambio di Perisic parte l'offerta per Vidal e queste appunto le ultime da casa Inter andiamo invece in casa Milan quanti sì Obe Mejang ora fa lo sconto il gabonese riduce a 8,5 la richiesta di ingaggio tra l'altro oggi ci sarà proprio la sfida con Borussia dove gioca Obe Mejang alle 13.20 like di Belotti e Bonucci buonaventura noi fra le top 4 andiamo a vedere le ultime dal Torino colpo toro soffiato Berenguer al Napoli l'esterno spagnolo arriva dall'Osasugna scelta l'opzione migliore e intanto c'è Totti che comincia la sua carriera da dirigente e dice Roma ti darò una seconda vita l'ex capitano accoglie a Trigoria il nuovo acquisto Under prima uscita da dirigente Monchi tratta Barrecca Maez dice sì vediamo anche il rompipallone di Genegnocchi che troviamo proprio in questo taglio di pagina e che prende spunto da una notizia di cronaca la scomparsa del regista horror George Romero fra i suoi film cult La notte dei morti viventi e l'ultima difesa dell'Inter ironizza Gene Gnocchi andiamo nel taglio basso adesso dove trovano spazio le notizie che ci arrivano anche dagli altri sport in primo piano l'importante oro vinto ai mondiali di nuoto di Budapest l'oro del duo Minisini Flamini l'oro del sincro dedicato ai migranti protagonisti ai mondiali di nuoto proprio con questa medaglia d'oro vinta dalla coppia Minisini Flamini e poi Federer dopo l'ottavo trionfo a Wimbledon dice giovani ci vuole più coraggio c'è l'intervento di Sandro Veronesi che dice agli eroi non si chiede l'età anziché ripetere per le stesse parole l'ennesimo trionfo di Federer propongo un semplice esercizio cosa facevamo noi nel 2003 anno della sua prima vittoria a Wimbledon chiudiamo la gazzetta dello sport siamo in chiusura anche di questa rassegna stampa ma prima di salutarci un passaggio veloce anche sulle prime pagine di tutto sport e corriere dello sport vediamo il tutto sport ovviamente le torinesi in primo piano finalmente Juve preso De Sciglio e Chesnì per quanto riguarda il toro chiuso l'affare per l'arrivo in Granata di Berenguer andiamo anche sul corriere dello sport ecco la prima pagina con il testa a testa fra Allegri e Sarri una giuria di esperti è il Napoli l'anti Juve nostro sondaggio a un mese dal via del campionato Allegri e Sarri davanti poi Milan Roma e Inter e poi vediamo anche sul corriere dello sport due colpi bianconeri Chesnì e De Sciglio e poi vediamo anche sul sipario scopriamo il nuovo Milan c'è subito la sfida al sogno Obe Mejang e con questa prima pagina chiudiamo questa nostra rassegna stampa sportiva io vi ringrazio per la vostra attenzione prima di salutarci vi ricordo anche i principali appuntamenti di oggi su Udinese TV vediamo il box che la regia ci ha messo in sovraimpressione alle 17 come ci ha ricordato prima Maurizio Ferrari lo speciale ritiro in diretta dall'Austria per seguire assieme la fase pomeridiana di preparazione dell'Udinese la replica poi alle 23 poi invece alle 21 Friuli Venezia Giulia Coast to Coast con David Zanirato come ogni martedì andremo alla scoperta delle marine che si trovano sulle coste della nostra regione è tutto per il momento io vi ringrazio per la vostra attenzione e come sempre vi invito a rimanere in nostra compagnia buona giornata a tutti che si trovano